Ciao a tutti, nel video di oggi, tutta la famiglia è tornata a casa dopo la vacanza in Toscana. Qui Leo, si diverte a costruire l'astronave dei Fantastici 4 con Papa Fedez, e a giocarci con lui. Vi lascio al video, buona visione. Siamo arrivati a Roma. Ci siamo? Sì, ci siamo! Ok, stiamo volando. Qui è il capitano che vi parla, arriveremo a destinazione. No! 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 Quanti sono i Fantastici 4? Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei, mi sembra giusto. Un'altra di burrata, di trea. Esatto, e per me è una matricina. C'è una caccola. Una caccola? Sì. Ma dove? Questo è il naso. Nel naso c'è una caccola? Me la togli tu? Sì. Vai. Oh! E adesso dove la mettiamo? La caccola. La caccolona, amore. La butto. La butti? Ok. Non è l'ha. In quanto tempo ci ho scattato? In quanto tempo ti ho incontrato? Sono 56 sassi, amore? 56. Sì. Quella, appunto, come ci diceva Simone, vedi la rotonda lì dietro, Montesiepi dove c'era stata, dove c'era quell'aeremo di San Galgano, che San Galgano lì viveva, no? San Galgano viste gli ultimi anni della sua vita lì, dopo la vita di Saluta e dopo la vita di Salvatore di Eno e da Nolle. Patate, ti piace? Grazie a tutti Grazie a tutti